Un significato speciale per me, ma tornassi indietro, non l'avrei fatto in quel punto, è soprattutto così grande, quindi forse è l'unico tatuaggio in cui ho dei piccoli ripensamenti, ma non per l'ora, dipende tutto da te, perché ovviamente immagino che ci sarei stato male, però dopo un mese è tornata, quindi dipende cosa provi per lei e se vuoi perdonarla o meno, quindi solo te conosci i tuoi sentimenti, in bocca al lupo. Beh, l'importante è capirlo, poi le circostanze, e sono quelle che sono, no scherzo, oddio, l'ho messa un po' sull'ironico, però non c'è che dirti, consigli, eh, sicuramente vorrei essere un po' meno anziosa e un po' meno paranoica per tutto, in generale della vita. Oppa, scusami Miki, non volevo, che cosa sono?